eccoci live molto live amici questa volta digital news guarda facebook ha deciso di iniziare a fare cose audio anche lei esattamente come accade con altre come già successo con con clubhouse anche facebook vuole vuole andare vuole utilizzare l'audio quindi ci permetterà di fare dei piccoli messaggini audio al posto dei post per cui adesso passiamo alla seconda notizia poi durante la sigla vado a cambiare a risolvere il problema seconda notizia lo UK sta considerando di creare una sorta di moneta criptovaluta cioè di moneta digitale non è solo ovviamente UK a farlo anche l'Unione Europea sta cercando di fare qualcosa del genere sostanzialmente sarà una valuta collegata al valore della sterlina così come lo sarà quella della banca centrale europea al valore dell'euro ma completamente digitale vorrei dire che gli scambi in sostanza saranno fatti senza bisogno di passare attraverso una banca e ora durante la sigla vediamo di riuscire a risolvere il problema di digital meme allora parliamo dei meme i meme di questa settimana che sono questi a me fanno riderissimo guardate allora questo qua sostanzialmente dice puoi anche vaccinarti senza necessariamente postarlo quest'altro invece fa vedere l'utilizzo tipico delle stampanti cioè quanto tempo passa una stampante ha la parte blu a stampare e la parte arancione a fare scrata cringe scrata crunch non stampo non stampo perché perché è molto comune se conosciamo la le stampanti cosa fanno un'altra che mi è piaciuta è questa qua c'è Sophia Lauren e Jane Mansfield che sostanzialmente sono in una famosa foto di Hollywood del 57 lei che è le sue stocks che guarda con invidia le cripto perché sono un po' più come dire generosi allora questa qua mi piace tantissimo che cosa sarà mai questo cosa strano è una stampantina che ho comprato e che mi piace perché fa delle stampantine stampantose vi faccio vedere un piccolo video in cui vi fanno vedere proprio come funziona questa stampantina guarda carica il fogliettino e poi con la con un'applicazione si stampa un nastro in carta termica che peraltro ho provato niente male perché alla fine questa carta termica non va via cioè non è che come i fax appena lo tocchi dopo un po' smettono di funzionare e mi trovo bene perché stampo un mucchio di etichettine volevo provare cose non mi pagano questo ragazzo è un altro che è pestato pescato perché io dico sempre attenzione a smanettare a fa volte è un attimo l'occasione rende l'uomo ladro anche nel digitale quindi uno dice ma ho trovato il modo per no lascia stare bisogna essere onesti ed evitare di comportarsi male pure sul digitale anche perché ti beccano ok non esiste l'anonimato e allora questo ragazzo che si chiama graham evan clark che maggiorenne peraltro da pochissimo da gennaio 2021 ha rubato le credenziali di twitter di alcuni big questo qualche anno fa l'anno scorso e si è messo a postare roba nome loro cioè il posto di bill gates di questi qua ha postato peraltro dei link per andare a rubare dei soldi avete presente i link di phishing e uno dice bill gates ha postato investi su questi bitcoin e uno va la compra poi in realtà non era vero e ha dato i soldi alla fine però il denaro lo ha obbligato l'hanno obbligato a restituirlo e gli hanno dato tre anni di prigione quindi un diciottenne tenere prigione attenzione ragazzi a come ci si comporta e adesso oggi voglio parlare di una cosa sola di business che è questa la ovunque strategy perché vi parlo di ovunque strategy perché io spesso mi trovo a dover dare consigli anche alle aziende è uno dei lavori che faccio e quindi il problema è dove dobbiamo pubblicare e allora la risposta è che in sostanza canali sono tanti e non si può scegliere un canale solo perché le aziende devono pubblicare dove dove c'è il pubblico ed è evidente che su tiktok ci sarà un pubblico diverso rispetto a quello di facebook rispetto a quello di instagram rispetto ai vari no agli altri social a quello di youtube e così via e anche il tipo di formato uno sarà quadrato l'altro sarà rettangolare l'altro sarà appunto invece messo per il lungo cioè verticale e così via anche contenuti non sono gli stessi hanno durate diverse tipi di fruizione diverse quindi bisognerà usarli in modo diverso però non bisogna come dire chiedersi troppo dove dobbiamo esserci perché dobbiamo essere un po' dappertutto il punto è come farlo fanno in modo corretto eccetera un'altra questione importante della tra virgolette ovunque strategy è quella per cui bisogna ricordarci che di là ci sono persone persone vere e che quindi in fondo anche se il mezzo fa vedere quello che noi pubblichiamo attraverso diverse finestre diverse dimensioni alla fine dobbiamo comunicare con loro e quindi dobbiamo ricordarci che oggi le piattaforme che funzionano possono essere youtube facebook eccetera eccetera ma poi alla fine cambieranno nel tempo è arrivato recentemente clubhouse eccetera eccetera ma poi alla fine di là ci sono sempre persone e questo è molto importante ora voglio parlarvi di arte digitale perché perché come sapete l'arte digitale è ovviamente un'espressione umana dell'arte che grazie ai mezzi digitali ha dato la possibilità a tutti di ovviamente utilizzare nuove forme e adesso una che va forte di queste forme è questa qua si chiamano cripto kitties in sostanza sono questi animaletti di vari colori di varie forme eccetera che sono collezionati e vengono pagati un mucchio di soldi e sono veramente un successo cioè anche alcuni italiani ho visto che hanno incominciato a fare a fare questi come dire questi cripto cripto animaletti perché tirano perché funzionano sono da collezione un po delle figurine moderne l'unico problema è che leggendo un po di articoli del mondo un po più da quello che pare che venga fuori da questa storia è che il mondo nft appunto non fungible token con cui vengono pagati questi cripto kitties che alla fine sono cose così no sono questi animaletti strani tutti colori servono anche per riciclare denaro si riciclano milioni di dollari è diventato per alcuni luoghi in alcuni contesti un luogo per riciclare denaro sporco per cui occhi aperti quando andate a comprare certe robe nel digitale italia intanto vi saluto ci vediamo lunedì prossimo